No! 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 Scusa, io devo scappare. Tu mettiti comodo, ok? C'è dell'acqua nel rubinetto. Hal, sei in ritardo. C'è l'esame oggi, è importante. Ti farò fare bella figura, tranquilla. Ora, leviamoci questi pantaloni e pensiamo a volare. Quando volo, ho la sensazione che tutto sia possibile. Anche quando le cose si mettono male, sento che c'è qualcosa di buono laggiù, oltre l'orizzonte. Il tuo nome è... Hal. Hal Jordan. L'anello ha scelto te. Usa il suo potere per difendere il nostro universo. Diventa uno di noi. Diventa una lanterna verde. L'anello comporta una grande responsabilità. Responsabilità? Tu? E perché no? Qualunque cosa io immagini, posso crearla. Se c'è una cosa che una lanterna verde non dovrebbe avere... ...è la paura. Non fa per me. Hai la capacità di vincere la paura. Wow. Non male, eh? E ora che si fa? Si va in cerca di guai. Nel giorno più splendente. Nella notte più profonda.